Ciao a tutti, ecco ci siamo, un nuovo video che facciamo per il Zelda, ci indichierà le posizioni come abbiamo fatto prima con Robosa Song, una posizione questa qui, i 3 line sono rivellati, adesso dobbiamo trovarli, ok, qua sono 3 line, allora ci siamo, penso che abbiamo trovato il primo shrine, come vedete sulla mappa è questa la localizzazione, siamo alla cascata, waterfall, come diceva nella canzone, ok, no po, no po po, No, no, no. è un'altra volta è finita è finita ok ok penso che così prendiamo questo qua adesso l'altezza che dobbiamo avere sì, probabilmente possiamo arrivare là sopra ok, vai finalmente e perché ci siamo se l'abbiamo fatta questo era il primo stream ok 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 ecco qua nel secondo stream dopo avercizzo i tre guardiani e volano possiamo tirare i guardiani avanti e siamo dentro al secondo shrine ok bene è andato dentro aspettiamo il sparo ok e finalmente e questo era il secondo shrine ok abbiamo visto che c'è questo portale blu di nuovo, dobbiamo andare verso di là dobbiamo aspettare solo che successe andiamo ecco qua io posso fare anche una scuola terra ho visto che stanno più che stanno più che stanno più a più che stanno più a più che stanno più a più Ecol Terzo Shrine, the melting point. Well... Grazie. Grazie. Lo portiamo qua. Ok. Utilizziamo l'abilità di creare ghiaccio. Penso che possiamo salire. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Siamo ritornati qua. Divine Beast Manruta. Che probabilmente dobbiamo combattere con un boss per finire questa parte di storia con questa divinità. La battaglia la vedremo al prossimo video. Ciao.